Riccardo Cristiano, Liberi TV, siamo in Francia e soprattutto in questo caso a Parigi in piazza Notre Dame de Paris in compagnia di Vincenzo Lita, direttore di Società Libera. Siamo qui per una validissima ragione che ormai è da tanti anni, ovvero la settima marcia per la libertà dei popoli oppressi che si terrà domani sempre qui a Parigi. Innanzitutto io saluterei Vincenzo che qui è di fianco a me e ha molte cose da dirci. Buonasera a tutti, come diceva Riccardo siamo a Parigi perché domani abbiamo questa settima edizione della marcia. La novità di quest'anno è che rispetto agli altri anni in cui le marce si svolgevano in contemporanea nelle quattro capitali europee, cioè Roma, Parigi, Bruxelles e Berlino, quest'anno ci siamo concentrati tutti a Parigi per dare un segno di più forza, più unione sull'argomento della libertà dei popoli oppressi. Nei confronti di chi più forza e più unione? Nei confronti per esempio del Parlamento europeo perché noi abbiamo presentato attraverso 15 parlamentari europei nello scorso gennaio una mozione che chiedeva al Strasburgo di riconoscere, in cui si riconosceva l'instaurazione della giornata europea per la libertà dei popoli e delle minoranze. Purtroppo non siamo poi alla fine riusciti a raccogliere le firme necessarie perché come sapete è scaduta la legislatura europea e quindi adesso siamo costretti a ricominciare da capo. A partire dall'indomani di questa marcia raccoglieremo le firme tra i parlamentari europei affinché l'assemblea ci auguriamo nel 2015 possa stabilire questa giornata europea per le minoranze dei popoli. Che cosa dire di più? E' un appuntamento anche significativo perché dicevo prima ci siamo concentrati qui a Parigi, città simbolo della libertà e in qualche modo perciò abbiamo scelta questa capitale rispetto alle altre, in cui interverranno esponenti di varie, tantissime comunità, in modo particolare del sud-est asiatico e quindi dai tibetani agli Urui che c'entrano poco con il sud-est asiatico, è una minoranza che ha dei problemi, dei grossi problemi di sopravvivenza in Cina come sapete, ma con i nauteani, con i vietnamiti, con i birmani e via dicendo. Perché partiamo sempre dal solito presupposto che come liberali dobbiamo occuparci non solo delle nostre libertà domestic, ma dobbiamo occuparci anche delle libertà degli altri popoli. Perché in fin dei conti nel mondo, in questo mondo globalizzato la libertà è una, non è che parliamo di varie libertà, difendere la libertà degli altri e di questo popolo significa in qualche modo difendere anche la nostra libertà, la nostra di occidentali. E poi voglio anche sottolineare che quest'anno un pensiero va anche alle comunità cristiane, specialmente quelle del Medio Oriente, perché anche loro come minoranze in qualche modo stanno soffrendo e soffrono parecchio evidentemente perché perseguitati e la cronaca di ogni giorno quanto riguarda l'Ilaq, la Siria e via dicendo ce lo dice, perché oramai è un mondo quello che si è sconvolto. Se pensiamo alla stessa Siria, questo non per difendere Assad in cui la minoranza cristiana ha convissuto per secoli, voglio dire con altre popolazioni, questo oggi in Siria non è più possibile evidentemente. E qui non sto a richiamare l'Isis, i musulmani e via dicendo, perché poi non è un problema solamente nel Medio Oriente evidentemente, ma via ciri e massacri dei cristiani all'interno delle chiese, all'ucine delle chiese, ne sentiamo quasi settimanalmente anche nel centro Africa e via dicendo. Quindi un pensiero va anche alla minoranza cristiana perché no. Dicevo come occidentali questo lo dobbiamo come dire alla minoranza cristiana perché in un mondo secolarizzato un po' come questo occidentale viene dicendo e almeno io personalmente non posso dimenticare che alcune origini dell'Europa sono come dire nate dal connubio tra mondo classico e mondo cristiano. Detto questo, ancora come occidentali siamo impegnati in questo anche perché in occidenti non è che abbiamo fatto molto nel recente passato, l'occidente è più badato all'aspetto economico nei rapporti con alcune situazioni scabrose dal punto di vista della difesa dei diritti umani, specialmente in Oriente, nel momento in cui il popolo birmano giaceva sotto una dittatura militare, voglio dire visto che siamo a Parigi oggi e davanti a Notre Dame, voglio ricordare che il governo francese di qualche anno fa, il governo Sarkozy per l'esattezza commerciava con il governo birmano e perché le società petrolifere francese avevano degli interessi in Birmania e via dicendo. Quindi abbiamo più privilegiato alcuni aspetti dell'apporto economico e poi abbiamo parlato in qualche modo di diritto umano, di difesa dei diritti umani, nel momento in cui si facevano convegni o convention sull'argomento. Il problema non è fare convegni e convention sull'argomento, il problema è mostrare all'opinione pubblica francese e non che è arrivato il tempo di scendere in strada, cioè la gente comune deve scendere in strada, visto che in molti casi sia i governi sia le diplomazie internazionali sia le cancellerie che dovrebbero occuparsi anche dei diritti umani che sono stati carabinati da questo punto di vista. Allora c'è bisogno che il pallino passi un po' anche alla gente, alla gente come noi, alla gente comune che faccia sentire il suo pensiero sulla difesa dei diritti umani nel mondo. Perché sennò l'Occidente continua a sonnechiare da questo punto di vista, non ci sente da tutte e due le orecchie, ci sente solo se si sussurra qualcosa nelle orecchie in occasione, come dicevo, poc'anzi di convegni o convention. Vincenzo, tu pensi che si sia fatto un po' l'abitudine a livello mediatico per quanto riguarda la violenza, per quanto riguarda gli esseri di certi popoli che poi vengono a migrare nel nostro paese, e soprattutto ci si sia abituati un po' troppo forse alla banalità del male, io direi. Sì, sono abbastanza d'accordo con l'espressione che tu hai usato della banalità del male. Perché se in Occidente si è diffuso come dire una sorta di buonismo a poco prezzo, un buonismo facile, basta coglierli e poi senza porsi il problema del perché nascono queste cose evidentemente, i quali sbagli nel mondo sono stati commessi. A me da Liberale piace ricordare, perché bisogna dire fino in fondo la verità, che la politica estera americana è una politica che non ha dato buoni frutti in questi ultimi decenni. andare alla ricerca del terrorismo, del terrorismo internazionale e pensare che il terrorismo internazionale si possa battere con una coalizione di bombardieri, evidentemente questo non porta a poco, ma sia sul piano politico, ma oserei dire anche sul piano militare. La prova del 9 l'abbiamo in questi giorni, quando ascoltando i telegiornali dicono bombardati gli uomini dell'Isis in Iraq, dopodiché la gente non si spiega com'è che l'Isis avanza, tutti vuol dire che neppure i bombardamenti dall'alto servono sul piano militare, per non parlare di quello politico poi, perché la situazione si va sempre più incartando in qualche modo. Abbiamo troppo creduto in alcune parole d'ordine, per fare un esempio per tutti, le primavere arabe, in cui sembrava che tutti parlassero i giovani con internet e si scambiassero informazioni sulla democrazia e questa voglia sulla democrazia. Io ricordo che a Milano ebbe modo di incontrare, ma per quello caso, un incontro provocato da me, perché ero in un barco degli amici e bevevo un caffè e c'erano due giovani libici che parlavano perfettamente italiano, perché era un po' di tempo che abitavano a Milano, e mi informai sulla diffusione degli strumenti internet, facebook, twitter e via dicendo. Ma qui si dice in giro che praticamente questa rivoluzione araba, della primavera araba, sia stata anche favorita dai moderni mezzi di comunicazione. E questo mancava poco e mi dice, se faccio, mi rendete conto della situazione dei nostri giovani, e via dicendo, ma chi usa questi strumenti se non una piccola parte della nostra popolazione di giovani? Noi, ti ho detto, ho raccontato questo episodio, devo dire, abbiamo molto a enfatizzarlo con queste cose, non ci siamo voluti illudere che in qualche modo la democrazia fosse una cosa facile da asportare. La democrazia non si esporta da giorno all'altro, la democrazia è frutto del passato, del modaggio, e con quelli con cui non ce l'hanno bisogna trovare dei sistemi di convivere, che non può essere uno scontro permanente, perché nello scontro permanente poi alla fine non è che ci perdono solamente loro, ci perdiamo tutti noi. Un esempio lampante di quello che voglio dire. Sì, oggi ho provato a prendere alcune linee metropolitane qui a Parigi, ma nello stesso giardino del Nord-Dame, in cui noi stiamo, con Riccardo, ho visto che ci sono pattuglie armate con mitra spianata dell'esercito francese, la metropolitana di Parigi è pienissima, perché qualcuno ha detto che prima o poi arriverà qualche attaccato alla metropolitana di Parigi, alla metropolitana di Londra, come si può vivere in un mondo, come dire, si fatto, in cui dobbiamo stare attenti nei passi che noi stessi abbiamo fatto precedentemente. Questo non può giustificare l'estremismo dell'Isis e via di via, ma può dire che la strada non è questa. No, ovviamente. non può essere che questa. La strada deve essere per forza quella di un certo tipo di dialogo, riconoscendo alcuni errori che l'Occidente ha fatto. Ma l'Occidente l'ha fatto nei confronti del popolo di Uro, non ponendo sul tavolo dei rapporti con la Cina e il problema del popolo di Cina, l'ha fatto nei confronti della stessa Cina a proposito del Tibet. Abbiamo avuto l'esempio lampante della Birmani. Voglio fare ancora questo esempio. Quanto sette anni fa abbiamo iniziato con le Marce Internazionali per la Libertà a Roma, erano presenti un gruppetto di giovani birmani alla nostra Marcia di Roma e con grande paura venivano alla Marcia perché si sentivano spiare dalla Marcia da Birmana. Avevano una sorta di terrore come dire addosso a partecipare a queste cose. Dopodiché pian piano la situazione in Birmani si è modificata e hanno dato la libertà alla San Suu Kyi. La San Suu Kyi è diventata anche deputata nello stesso Parlamento Birmano in via dicendo. La San Suu Kyi che aveva ricevuto poi il premio Nobel è diventata una specie di comunità nazionale. Allora si sono aperti tutti nei confronti della San Suu Kyi. Quando la San Suu Kyi è arrivata a Roma erano tutti filo birmani. Mi ricordo. L'onorevole Veltroni, tanto per non fare nomi, l'ha ricevuta in pompa magna parlando della Birmania, del suo rapporto con la San Suu Kyi, con la Birmania e via dicendo. Quando la San Suu Kyi era in Galena e ripeto i giovani birmani avevano persino paura di respirare nelle strade di Roma insieme a noi di società libera e via dicendo. La Birmania la conosceva nessuna. La conosceva nessuna. Quando diventa poi un fatto come dire giornalistico, mediatico, molto di moda quanto è brava la San Suu Kyi, quanto è bella la San Suu Kyi, quanti anni è stata in Galena la San Suu Kyi, poi si scimmiotano queste cose e diventa come dire il male passato che è divenuto un bene e poi vogliamo tutti per il bene. Troppo facile. Allora se nel mondo esistono delle crisi di questo tipo, il credicente all'Occidente lo deve far sentire il suo pensiero perché non possiamo continuare a vedere il martirio dei giovani tibetani che si danno fuoco o il martirio degli uguri che poi in questo momento sono tracciati dal governo cinese di essere terroristi e via dicendo. Certo c'è anche lì una Francia che in qualche modo è uscita fuori dall'alveare in qualche modo, perché la verità bisogna dirle fino in fondo. Non è che sono tutti santi da una parte e tutti gli altri dall'altro. però come occidentali bisogna che noi ci mettiamo la bocca su questi addomini. L'operazione di società libera da sette anni è di pubblico valore. La prima è cercare di far capire a queste stesse comunità, come facciamo che dire i nostri amici italiani, che non ha nessun poco senso che i vietnamiti marciano per la situazione vietnamina europeana per l'uomo nell'house. Oppure da una parte dibetano all'altra dicendo se siamo popoli, se sono popoli oppressi in qualche modo e che marciano insieme. In questo siamo riusciti nelle quattro capitali a mettere insieme queste componenti affinché passasse questa idea comune di una difesa comune di libertà. e questo secondo me è stata una buona operazione fatta dalla società libera. Dall'altra cercare di portare ad uno sbocco concreto, al di là delle marce, al di là delle manifestazioni perché sennò diventiamo come alcuni gruppi in Italia che si occupano dei diritti umani, diventiamo i professionisti dei diritti umani. Ma non ci guardiamo intorno però. E appunto. Così come in Italia, voglio dire, tanta gente parla di mafie, di cose, via dicendo, e poi diventano, come diceva già Sciascia ed Eppi Suoi, i professionisti dell'antimafia. E poi ci intestiamo terreni, case e quant'altro, creiamo degli imperi economici e diventiamo professionisti. Noi non vogliamo diventare professionisti di nulla, tanto è vero che non ci occupiamo solamente dei diritti umani. Ci occupiamo di tante cose, ci occupiamo di liberalismi, ci occupiamo di liberalizzazioni, ci occupiamo di papie, ci occupiamo anche dei diritti umani evidentemente, ma non siamo specializzati in diritti umani. Partiamo solo dall'assunto che se mi occupo di libertà economica non mi posso occupare delle libertà fondamentali dell'uomo che sono quello di vivere. E' libertà quello di avere una sua religione, quello di avere una sua libertà civile a tutti i livelli che riguardano tutti gli ambienti e tutte le cose che interessano gli esseri umani. Ciò che si chiamano con la parola i diritti fondamentali dell'uomo. Vincenzo sei stato chiedendo a questo punto, darei giusto due informazioni sulla location di domani per fare in modo che più persone possano partecipare alla settima marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi, così lo dici ai nostri amici web ascoltatori ma altri che magari si vorranno avvicinare semplicemente per sostenere la società libera. La marcia partirà domani alle ore 14 dalla Statua della Libertà, non a caso, che è sul ponte di Grenelle in centro a Parigi e terminerà con i discorsi, anche perché la marcia è silenziosa nel suo percorso, perché partiamo dal presupposto che il silenzio fa molto non male di qualsiasi urla, si impone molto di più il silenzio, ha terminato nel discorso e con il saluto dei vari rappresentanti delle comunità che abbiamo richiamato prima sulla piazza del Trocaderno. Perfetto, io ringrazio nuovamente Vincenzo Lita, direttore di Società Libera, qui Riccardo Cristiano vi saluta dalla bellissima piazza di Notre-Dame de Paris in Francia a Parigi e quindi vi invito tutti a partecipare alla settima marcia per la libertà dei popoli oppressi in marcia internazionale, diciamolo siamo in Francia quest'anno e come cosa dire, buon lavoro, buon proseguimento, buona marcia a tutti, noi ci saremo, LibriTV c'è!